Ciao a tutti che ciotti benvenuti in questo nuovissimo video di minecraft ita quest'oggi sto raccogliendo altra sabbia Perché il vetro con disposizione non serve a cioè non basta più che altro per fare ciò che voglio fare oggi Tra l'altro mettiamo un attimo da parte il Castello finché non decido di preciso cosa farci perché l'ho fatto non è male Poteva dire meglio sicuramente venire più poteva dire più medievale Sicuramente senza ombra di dubbio ma non era esattamente ciò a cui aspiravo anche perché mancava con lo spazio Adatto a fare un vero e proprio castello non lo so ma lei lo rifaremo da un'altra parte in cui avevano più spazio per fare un bel castello con il contro Nel frattempo siamo nella 1.13 e ho registrato l'altro giorno un video che è finito sul canale di sasha su mezzi minecraft e Forse farò anche io altre cose su mezzi in minecraft è da vedere poi vabbè basta che li state aggiornati Fatto sta che muta voglia di fare una cosa in particolare cioè creare un acquario con dentro Dei pesci vedete che è interessante dovrebbe esserlo o perlomeno è questo motivo per cui voglio farlo quindi sto prendendo un botto di sabbia Per metterla a cuocere e portarmi a casa un po di vetro già che sono qui tra l'altro ho un secchio D'acqua è che mi conviene prendere un pesciolino e portarmelo a casa ad esempio questo tipo qua Boma ok Tactical fishing Abbiamo un bellissimo e simpaticissimo Merluzzo con noi a bordo ottimo Ora l'acquario a me piacerebbe tantissimo farlo nella zona frontale al castello quindi su quella montagnella lì e poi magari Dall'acquario usciranno dei flussi d'acqua che scenderanno per la montagna e faranno delle cascate Non lo so c'è solo tantissime possibilità io direi che possiamo iniziare però da iniziare a piazzare un po di vetro Anche solo una base per capire quanto grande vogliamo farlo c'è anche da capire se e quando barra come si possono portare I delfini le squid sarebbe una figata a portarci portarci anche squid e tutto quanto Cioè quasi quasi ci infilo dentro uno zombie così poi diventa uno zombie Affogato figo ok allora prima cosa disfiamoci tutta questa erbetta che non serve assolutamente a nulla qua sopra Visto che ho deciso che diventerà la zona dell'acquario boia quanta erbetta c'è vabbè con calma Allora considerate che ovviamente ci potranno essere degli upgrade in futuro una cosa che farò assolutamente è rimuovere questo albero perché non ci interessa Perfetto e mi piacerebbe anche che il mio acquario fosse circolare quindi facciamo un cerchio Quanto grande possono farlo questo cerchio a direi che il centro potrebbe essere circa qui Cerco su google la scheda dei cerchi in modo da poter fare cosa di caruccio 19 blocchi di diametro potrebbe essere una buona soluzione Quindi sono uno due tre quattro cinque sei sette otto e qui c'è un blocco Quattro cinque sei sette otto qui c'è un blocco Sarebbe un po da allargare il tutto però è allora questa zona va un po implementata e come al momento non ho terra Però non ci interessa allora la base è questa abbiamo bisogno di un blocco c'è di una serie Di blocchi da sette qui sono tre per lato E poi abbastanza semplice è un due blocchi Uno in diagonale Un altro in diagonale altri due e poi riprendiamo il ciclo con queste cose qua quindi 2 1 1 2 levati Perfetto E a questo punto 1 2 3 proviamo a farlo senza blocchi Sotto 1 2 3 Perfetto Torna tutto e io sono contento Questo sarà il nostro acquario e come vedete Voglia raga è davvero grande come acquario io come cacchio lo riempio sto coso Vabbè abbiamo iniziato Bene hai voluto la bicicletta ora pedali Mi direbbe qualcuno non so chi Quindi niente pedaliamo Beh prima cosa ho bisogno di molta più sabbia molto più vetro e di tanta acqua Orca vacca Va bene sarà impegnativo ragazzi senza ombra di dubbio sarà molto 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 impegnativo Facciamo tutto con ordine la prima cosa che posso fare è craftare diversi secchi d'acqua Per forza l'unico modo in cui poi andrò anche a pescare altra roba Mi piacciono quanti ne voglio ma Un po' devo farne Facciamone altri sei Così ho sette beh ci sta Sette mi piace come numero Abbiamo sette secchi d'acqua Prendiamo un po' d'acqua Tra l'altro così posso fare una fonte d'acqua infinita Lassopra temporanea perché mi servirà Per forza per riempire tutto come si deve A proposito vediamo se qua ci sono dei pesciolini da rubare Uh quello cos'è Un salmone Cucciolone stai salendo la corrente Vieni qua vieni qua Ottimo abbiamo anche un salmone Mi manca solo un po' di terra e posso iniziare a costruire il nostro acquario Raga l'acquario è roba da gente ricca però è un acquario così grosso deve essere un milionario per mantenerlo Noi qui non è che abbiamo chissà quante risorse Devo farlo in the sims l'acquario altro che Un po' di terra E devo anche capire qual è il metodo migliore per riempire uno spazio così tutto d'acqua Nel senso non è semplice secondo me Secondo nessuno è semplice Potenzialmente dovrò finire a farlo al layer Sperando di uscirci anzi forse dovrò riempirlo tutto e piano piano metterci l'acqua Potrebbe essere complicato signore e signori potrebbe essere complicato Vabbè partiamo dalla base Cioè dal fatto che io qua sotto Potenzialmente ci voglio dei blocchi veri Perfetto Allora forse alla fine qua sotto ci metterò della sabbia Però al momento non ne ho perché l'ho messa tutto a cuocere Mi sarebbe il vetro Oh mio dio ma c'è un ciuchino Ciao ciuchino tu sei il ciuchino quello che ho visto qua il primo episodio tipo? Grande ciuchino Sarebbe da beccarlo sto ciuchino Da bloccarlo a qualche parte Ciuchino sai che ti dico? Che tu sei il mio amico E in quanto amico Ti voglio bloccare qua dentro Cadi Grande ciuchino tu rimarai lì per sempre Ottimo Ora più che un acquario sembra una fattoria a sto posto al momento Però Però potrebbe essere un inizio E devo capire come fare per riempire sta roba però Allora facciamo la fonte d'acqua infinita intanto per iniziare Sembra un'ottima idea Ora teoricamente se io riempio Se io riempio Che cosa vuol dire riempio? Vabbè se io riempio questa zona e questa zona Tutto il resto dovrebbe riempirsi automaticamente Se fosse stato un quadrato non è un quadrato questo Non so neanche se voglio provare a riempirlo perché poi magari è un casino metterci sopra altri layer d'acqua poi Come faccio a metterci altri layer d'acqua sopra non posso? Fidatevi di me Aspettiamo Altro vetro Per fortuna non è neanche così impegnativo Forse con questi due stack quasi che mi rimangono dove riuscire a fare addirittura due giri completi E arrivare a un'altezza di cinque blocchi che sinceramente mi sembra più che sufficiente Forse Sì dovrei farcela dovrei farcela sono già più di metà Ora quindi il problema è reale Come ce lo metto io tutto sto casino qua dentro Tutta sta acqua come ce la metto io E se io metto un blocco qui Quella sotto non è acqua acqua Capito? Devo mettere fisicamente il blocco Ma non posso farlo per tutta sta roba qui È enorme Troppo grande Un problema Allora vado nel mio momento in creative E faccio un piccolo cerchietto di questo tipo E vedo a fare Ok penso aver trovato la soluzione Ed era più semplice del previsto Basta inserire acqua Su tutti i blocchi laterali E automaticamente si riempie tutto Ovviamente però Devo si riempie Oddio mi viene il dubbio se c'è la ion Un momento di ignoranza proprio totale Liempiono No, non è vero. Basta usare delle scalette Inizio a parlare senza che stessi registrando Facciamo una scaletta per comodità Verso tutta questa parte Che è dove andrò a prendere le cose BOOM 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 Facciamo la stessa cosa di qua Poi riesco anche a mettere subito due pesciolini là dentro Va bene, ho cinque, si mettiamo subito le pesciolini che altrimenti qua Non sfrutta appieno tutti i blocchi che ho Iniziamo da qua e facciamo uno, due, tre, quattro Con quattro blocchi ho riempito tutta una parete E poi semplicemente bisogna iniziare a piazzarli tutti Avanti, indietro, avanti, indietro, signori miei Ma neanche, perché avanti, indietro, avanti, indietro? Scusa, c'ho qui una fonte d'acqua infinito ora Perfetto, ora non devo neanche andare avanti, indietro Facciamo così Prendiamo dell'acqua da qui che tanto è infinita E siamo a posto, molto più veloce di quel che pensassi Bastava anche solo un secchiettino Vabbè, ho fatto comunque bene a fare il secchiettino extra Anzi, i secchiettini extra Perché così dopo quando andrò a prendere i pesci non ho problemi Ecco qua, l'unico problema è che non ci dovrebbe essere quel blocco lì Vabbè, no, manca tutta sta zona, scherzavo Ok Abbiamo il nostro stagnetto A questo punto mettiamo i pesciolini Boom e boom Ciao pesciolini, cuccioli Ok Ok E dovrei rimuovere questo però Dovrei, sì, dovrei rimuoverlo forse Riempiamo tutti i nostri secchielli Per comodità, non per altro E dovrei fare il secondo livello Facciamo questo secondo livello, anche se ora è notte Quindi è più pericoloso Attenzione, attenzione, i brividi Ora, nel momento in cui inizio ad andare da questa parte Dovrei iniziare A vedere le differenze quelle belle Ok Ah, guarda come si riempie per bene Vai, riempimi tutto Sta facendo notte, non vedo assolutamente niente Ma fa niente Non fa assolutamente niente Ti pare? Qua noi siamo dei professionisti Circa Ok Mettila Mettila Ottimo Guarda che si completa tutto Sì Che goduria E anche il secondo livello è andato Vabbè ci vorrà un po' Ma Ce la faremo Circa Ok ragazzi Io ora sto solamente eliminando un attimino i polli Perché non dovrebbero essere qua dentro Ma Direi che ci siamo E' stato anche molto più veloce del previsto All'inizio mi sembrava una cosa quasi impossibile Invece Abbiamo un bel acquario enorme Prossimi passi Beh sicuramente eliminare La terra da sotto Voglio che diventi tutta Sabbia Per lo più Sabbia Ghaino Forse Al massimo Una cosa particolare Un fiume sotterraneo Sotto Mmm Una caverna sotterranea Con detto anche i pesci Sarebbe figo Cacchio sarebbe figo Vabbè ovviamente in tutto questo però Abbiamo solamente due pesciolini nel momento I pesciolini non possono accoppiarsi da quello che so Quindi abbiamo un problema Che c'è Ciuchino? Ho sentito lamentarsi Ciuchino Dimmi sei un po' triste che quelli hanno uno spazio così enorme sono in due Tu sei molto più grosso E hai un buco due per due Faremo anche una stalla poi non ti preoccupare Ah se avessi saputo che era così facile Cacchio L'hai fatto forse più grande Va bene ragazzi ma che ne dite se E iniziamo ad andare a prendere un po' dei nostri amiglietti Potrei andare anche al fiume che è qua accanto Proprio è che non ci sono così tanti pesci come mi piacerebbe Quindi andiamo nell'oceano Ah e tra l'altro voglio anche rubare un po' di alghette Voglio creare un po' di atmosfera Di come si dice Mi ha prenduto un'idea magnifica Perché mi sa che posso fare una cosa fighissima Allora posso prendere la squid intanto? Squid? Non posso prendere la squid Ok buono a sapersi Solo siamo levati dalle domande scomode Abbiamo un paio di salmoncini Voglio una tartaruga Altro che Cacchio voglio una tartaruga io Dove le trovo le tartarughe? Devo andare vicino alla sabbia nelle zone nuove Ok Si può fare ragazzi Due salmoni Ho bisogno anche di un paio di merluzzi però Non posso andare in giro solo No voglio i pesci tropicali Altro che Voglio solo pesci tropicali io Andiamo nel mare tropicale Ecco vabbè magari Un merluzzino lo pigliamo Con le torce posso respirare? Posso respirare? Ok ci vuole Devo tenere premuto Dove sono le mie torce? Scompariono le torce? Ah no figa sono tutte qua in aria Giustamente perché Non funziona più come una volta I drop sono Galleggiano Giustamente Quindi devo usare per forza tipo Una porta Qualcosa che si piazza Una trapdoor forse Prendiamo giusto Un altro code Perfetto E gli altri tre Saranno pesci tropicali Se ne trovo Quello è un delfino? E' un delfino Se sono sicuro che Come possono vedere aggiungeranno tipo Non lo so I squali Sicuro Allora signor delfino A me piacerebbe tantissimo Darti un pesciolino Così diventiamo amici In teoria si può fare Oh l'effetto del delfino Ciao Ciao delfino Ciao delfino Posso prenderti? Non posso prenderti Ci ho provato Ci ho provato Ti piace il pesce cotto? Gli piace Diventa amico mio delfino Dove vai? Vieni qua Aspetta dove mi sta portando? Mi sta portando a qualche parte Se mi sta portando la nave qua vicino L'ho già esplorata Però grazie Ah no se ne sta andando e basta Fica ho usato un pesciolino Vabbè Si è fermato proprio qua sopra Secondo me voleva portarmi qui Guarda guarda che fai versi Cucciolo Vieni qua Vieni qua Vieni qua Fatti vieni Che bello Che bello Mangia tutti i pesciolini che vuoi Oh merda ma c'è gente qua Gente cattiva Pesci tropicali Tanti pesci tropicali Uno per tipo ne voglio Quello rosso cos'è? Tropical fish Voglio te Voglio anche uno di quelli lì E poi non ho abbastanza secchielli Con il primo viaggio direi che non è male C'è sempre uno Ah forse quello piccolino Eh prendiamo quello grosso rosso Ecco ora recuperiamo un po' Senti amico mio Io ti voglio anche bene però eh Caga cazzo Te lo posso dire? Muori un po' Porca vacca Che ansia E' bello Manca un drop decente mi avete dato Allora proviamo a spaccare un paio di questi Voglio vedere se posso piazzarli Prendiamolo Kelp Magari posso piazzarlo Se non muoio prima Fammi assolutamente l'armatura Per andare sott'acqua Allora una L'idea fighissima che mi è venuta ragazzi E' di mettere i magma block sott'acqua Perché in teoria fanno le Le bolle Sarebbe fighissimo Cacchio se sarebbe fighissimo Comunque Torniamo a casa e piazziamo tutto E vediamo se sto kelpo posso piazzarlo oppure no Ah voglio anche queste io voglio Le alghette piccoline le grandi Vai vai piglia tutto No non posso prenderle queste Non posso non posso coltivarle Nooo Forse Forse con Ce l'ho con me le shears No Devo informarmi E' importante questa cosa ragazzi E' molto importante Oh tipo quarta volta oggi che mi scordo di accendere la registrazione Comunque 1 Non fa piazzare ho bisogno di un blocco Ho bisogno di un blocco 1 2 3 Dammi gli altri Prima di morire Boom Boom E boom Non saranno tanti ma è un inizio Vediamo il kelp Ok il kelp posso piazzarlo Non posso Ah posso piazzarlo anche sopra Ah ok Ok ci si può lavorare con il kelp Questo mi interessava Meglio di niente Cioè posso anche piazzare questo qua piccolino Però io volevo anche le foglie che si muovono cacchio Poi bisogna capire se Voglio capire se cresce sto cosa oppure no Facciamo uno bello alto Mamma mia Potrebbe venire qualcosa di davvero figo raga Devo riempire tutto però Deve essere tutto pieno Perché i pesci sono tutti la Oh non fate comunella È illegale Comunque Forse perché ci sono io e si stanno allontanando Vi direi che per questo video è tutto Bisogna ragionare su come Ampliare questo acquario Sia a livello di estetica interna Sia a livello di pesce Cioè voglio metterci più pesci Per il momento Vi saluto Ci vediamo nel prossimo video Iscriviti al canale se ancora non l'avete fatto E cliccate sulla campanellina per non perdere nessun video Ciao a turuduru tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti